Si è conclusa questa pratica e ho inteso giusto sospendere l'autosospensione e tornare a fare a piano il presidente di Estra, consapevole di aver gestito nel pieno interesse aziendale appunto le mie funzioni. Sospesa l'autosospensione, al di là del gioco di parole, di fatto Francesco Macri è tornato a tutti gli effetti presidente di Estra dopo lo stop che si era imposto lo scorso luglio, quando era stato raggiunto prima dall'avviso di chiusura indagini per l'inchiesta Coingas e poi dalla perquisizione della Guardia di Finanza negli uffici di Prato e Arezzo della Multi Utility che gli avevano notificato un altro avviso di garanzia per abuso d'ufficio e peculato. Sotto la lente degli inquirenti erano così finite in questo secondo filone assunzioni partecipazioni ad eventi nonché la procedura della quotazione di Estra in borsa. Il ritorno nel pieno dei poteri con il recupero di tutte le deleghe lasciate ormai mesi fa adesso è arrivato a conclusione del CDA di Estra. Dopo l'accesso della Guardia di Finanza e l'avvio di questa seconda indagine era naturale che una grande azienda come Estra facesse delle verifiche interne quindi abbiamo attivato l'intero auditing per fare tutti i controlli del caso. soprattutto per verificare eventuali incongruenze o criticità ma anche per migliorare le prassi, le procedure e le policy interne rispetto a tutta una serie di questioni gestionali facendo riferimento alle contestazioni della Guardia di Finanza. Era giusto da parte mia che mi sospendessi dall'operatività, da alcuni ruoli esecutivi che tra l'altro ineriscono anche quelle funzioni che hanno operato l'indagine interna quindi per garantire la massima terzietà e indipendenza dell'attività svolta internamente. L'esito dell'audito è stato positivo, non si sono rivelate incongruenze e a seguire implementeremo le procedure aziendali per ridurre al minimo eventuali possibili criticità per il futuro. Un controllo interno dunque che nulla ha a che fare con l'inchiesta penale per la quale invece si dovrà ancora attendere. Si è invece definito meglio il quadro dell'inchiesta principale nella quale Macri è accusato d'abuso d'ufficio contestazione che riguarda proprio la procedura della sua nomina a presidente di Estra. Secondo gli inquirenti nel 2015 non avrebbe infatti potuto ricoprire quel ruolo in quanto ancora consigliere comunale e la legge vieta la scelta per società pubbliche di figure che non siano uscite d'incarico da almeno sei mesi. Il procuratore Roberto Rossi ha già firmato le richieste di rinvio a giudizio. Era un fatto ampiamente annunciato, siamo comunque fiduciosi che in futuro nel momento in cui altri giudici, altri livelli giudiziari potranno valutare nel concreto gli elementi contestati, questi avranno un esito sicuramente positivo. D'altronde siamo assolutamente convinti del profilo giuridico di questa società che a nostro avviso non è in controllo pubblico e quindi non sussistono i presupposti giuridici per l'abuso d'ufficio che riguarda il primo filone per quanto riguarda la nomina del sottoscritto che è stata perfettamente coerente al dispositivo normativo che, ripeto, esclude le società come Estra che avendo per esempio emesso un bond nel mercato regolamentato non è sovrapponibile ad aziende pubbliche. Lei è tornato pienamente alla guida di Estra perché ha comunque detto deve andare avanti questa azienda. L'azienda va avanti anche con un presidente a mezzo servizio però non c'è ragione ad oggi per limitare l'azione di una funzione importante come la presidenza che negli ultimi anni ha contribuito notevolmente a promuovere l'immagine di Estra e a produrre risultati insieme agli altri colleghi del CDA di cui hanno beneficiato anche i nostri concittadini in questo territorio perché se Estra cresce, cresce una grande azienda che dà risposte occupazionali e riversa anche a livello di bilancio sociale notevolissime risorse su questo territorio.